Sì, abbiamo tagliato tutto giù il sfico Tutta mattina che sono qua tagliato giù il sfico, quei due qua L'ho ancora provato cosi? No, magari che cosa? Questo è un guardalo con una cagata Ma è sciù bene Fiiati Questa è un po' di pelo da fare il colpetto sul sassino Cosa 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 a cavallo e lui la fa facile è troppo facile venire giù dal tubo vediamo cosa può fare lui dovremmo fare un po più di indoor fai bene non ti fermi e riesci a non farti bloccare in quel pezzo perché se ti fermi vai in panico e metti giù i piedi riesci a non farti bloccare in quel pezzo devi farla scorrere